Una delle salate più fredde della mia vita l'ho passata a bordo di uno scooter nel sedile di dietro accanto ad un amico che in tutta fretta mi stava accompagnando totalmente a caso a cercare un terapeuta. Era un periodo un po' complesso della mia vita, in questa città che non nomineremo nemmeno ma non conoscevo nessuno lì e lui non conosceva nessuno, non sapeva a che rivolgermi ma avevo bisogno di un supporto e quindi totalmente impreparato per il freddo del luogo ero salito a bordo di questo scooter che lui nemmeno sapeva ben guidare e facciamo il giro dell'asino per trovare qualcuno con cui io potessi parlare io mi stavo congelando, non avete idea, non mi dimenticherò mai e non lo trovai un terapeuta perché non era così che funzionava sembrava una formica impazzita, andavo in posti a caso, era notte dovete attendere giorni in realtà tramite il passaparola di un terapeuta che conoscevo a Cagliari fu tutto un casino